Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il web si scaglia contro Beatrice Luzzi dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Durante il programma l'opinionista ha commesso una gaffe che ha scatenato l'ilarità sui social e numerose critiche. Luzzi ha dedicato un pensiero alla sua ex suocera, che era ancora viva al momento della trasmissione. Questo gesto ha diviso il pubblico tra chi ha trovato la sua uscita imbarazzante e chi ha approfittato per ironizzare, come l'azienda di onoranze funebri Taffo. Anche Selvaggia Lucarelli non ha perso l'occasione per prendere in giro Luzzi sulle sue storie Instagram. La situazione è diventata virale e ha portato alla reazione di Taffo, che ha commentato sarcasticamente l'uscita di Luzzi. Anche il figlio dell'ex suocera di Beatrice ha difeso l'opinionista, invitando gli haters a smetterla con le critiche ingiustificate. Luzzi ha ringraziato il giovane per il sostegno e ha risposto duramente al post di Taffo, definendolo vergognoso. Selvaggia Lucarelli ha aggiunto il suo sarcasmo alle polemiche, commentando ironicamente il gesto di Luzzi. Al momento la Luzzi non ha replicato direttamente alla Lucarelli, ma potrebbe farlo nella prossima puntata del Grande Fratello. La situazione ha diviso il pubblico e generato un dibattito acceso sui social. Resta da vedere come evolverà la vicenda e se ci saranno ulteriori sviluppi.